gentili ospiti vi ricordiamo il menù della settimana lunedì pranzo una mela cena una mela o un pacchetto di crackers martedì pranzo cinque rigatoni in bianco e una mela cena a scelta una mela o una pera mercoledì pesce bollito in acqua e una mela cena pesce bollito in acqua giovedì minestrina cena niente non vi preoccupate noi abbiamo altri programmi un abbonato lo sa sabato una quera domenica una mela